Buonasera a tutti anche da parte mia. Io continuerò un po' il discorso questa sera già iniziato da Claudio Ferrata su questa città Ticino, però cercherò di attaccarmi ai dati che sono presenti, sia dati della demografia sia dati che riguardano gli insediamenti e le abitazioni. Ecco i punti della mia presentazione, parlerò delle tendenze recenti dell'insediamento, poi siamo riusciti a identificare dei quartieri di forte crescita demografica in questa città Ticino e poi abbiamo anche scoperto che la periurbanizzazione ormai fa parte del passato o in tutti i casi a fine 2019 la periurbanizzazione faceva parte del passato. Poi non sappiamo, la pandemia ha sicuramente rimescolato le carte e dunque forse la periurbanizzazione continuerà dopo il 2019 soprattutto a causa della Covid. Vedremo. Ecco, noi nel 2019 abbiamo realizzato questo studio sulle tendenze recenti. La domanda di fondo alla quale volevamo rispondere era cosa è cambiato nell'insediamento della popolazione nella città Ticino nei primi decenni del ventunesimo secolo. Abbiamo deciso di fare uno studio a più scale, sia a quella cantonale, a quella dei comuni e poi a quella dei quartieri o addirittura degli isolati. Addirittura siamo arrivati anche alla scala dell'edificio. Dunque, cercando di vedere un po' quali sono gli elementi principali che abbiamo visto. Scusate, gli elementi principali per descrivere questo insediamento, modo di insegnamento nel ventunesimo secolo. Ecco, alla scala cantonale abbiamo osservato essenzialmente due fenomeni molto importanti, due fenomeni migratori e che erano in controtendenza. La diminuzione degli arrivi e l'aumento di partenze per l'estero, cioè il crollo del saldo migratorio con l'estero, che ha determinato poi lo stop demografico del canton Ticino, da un lato, e dall'altro l'incremento del flusso migratorio dal Ticino verso altri cantoni. Poi siamo andati a controllare, effettivamente si tratta quasi esclusivamente di persone in età di lavorare, soprattutto giovani che, avendo fatto gli studi nelle città della Svizzera interna o della Svizzera romanda, poi decidevano di fermarsi e non più di tornare in Ticino. Ecco, queste cose erano state già sviluppate da altri, però, insomma, questi cambiamenti, con il contributo di un saldo naturale negativo in quasi tutto il cantone, avevano di fatto portato praticamente all'azzeramento della crescita demografica del cantone. Ecco, possiamo guardare brevemente queste mappe che riguardano i saldi demografici, cioè i bilanci demografici, abbiamo diviso le cose in due periodi. Le mappe di sinistra, quelle che si trovano sulla sinistra, sono riferite al periodo 2011-2014. Mentre le mappe che si trovano sulla destra dell'immagine sono riferite al periodo 2014-2017. Insomma, l'idea è mostrare qual è il saldo medioanno nel primo periodo e il saldo medioanno nel secondo periodo. Ecco, qui vediamo che c'è un incremento del saldo naturale negativo in queste mappe. Vediamo che nel periodo 2014-2017, se vogliamo, la differenza tra i nati e i morti aumenta in modo negativo, cioè ci sono molti più morti che i nati, soprattutto nel secondo periodo. E vediamo che l'unica regione che non conosce questo problema, ovvero che ha i saldi naturali positivi, è l'agglomerato di Bellinzona. Lo vedete bene nella seconda mappa. Un'altra caratteristica dei bilanci demografici sono il saldo migratorio. Ecco, vediamo il saldo migratorio nel periodo 2011-2014 piuttosto consistente, mentre invece nel periodo 2014-2017 molto più ridotto e a questo ha contribuito il saldo migratorio con l'estero che in pratica si è dimezzato. Addirittura nel 2019 noi avevamo un saldo migratorio totale di 60 persone nel 2019. Allora, quando la media 2011-2015 era una media di attorno ai 4.500 persone. Dunque passiamo da una media di 4.500 persone a una di 60. Dunque c'è qualche problema, però non approfondirò troppo questo, perché credo che questa è materia anche da un approfondimento. Ecco, vediamo anche un'altra caratteristica di cui ho già accennato prima, cioè l'aumento del saldo migratorio negativo dal Ticino verso altri cantoni. Qui vediamo ancora nella mappa che si trova a destra, questi pallini blu che aumentano rispetto al periodo precedente, vuol dire sempre più gente che parte o diciamo che non torna in Ticino. E poi guardiamo invece quest'ultima serie di due mappe, sono i saldi migratori, attenzione ai saldi migratori per coppie di comuni. Queste frecce praticamente significano dove le persone si spostano. E qui vediamo ancora una volta nel secondo periodo, nel periodo tra il 2014 e il 2017, dove praticamente Bellinzona diventa molto molto attrattiva, cioè c'è gente che da Lugano si sposta, dal Luganese si sposta a Bellinzona, ma anche dal Mendrisiotto, ma anche dal Locarnese e soprattutto anche tradizionalmente dalle valli superiori. E dunque Bellinzona sembra l'unica città in qualche modo che guadagna popolazione rispetto a questa stagnazione di cui ho detto prima. Ecco, riprenderò questo discorso perché deve essere legato a quello a scala inferiore, cioè a scala del quartiere. Adesso abbiamo visto più o meno i saldi, piuttosto i bilanci demografici. Adesso guardiamo cosa succede a livello locale. Allora, per questa parte dello studio, abbiamo cercato di identificare i quartieri più, come si può dire, i quartieri che avevano conosciuto uno sviluppo demografico più forte nel periodo dal 2011 al 2017, o il 2016, piuttosto, perché i dati erano molto elaborati e sono anche difficili da trovare. Però abbiamo visto che siamo riusciti, attraverso un sistema, che adesso non starò qui a spiegare, perché è piuttosto complesso, riguarda appunto la creazione di griglie che vengono imposte al territorio e poi incrociate tra di loro, diciamo, con dati che incrociano praticamente la presenza di persone, diciamo, sotto i 20 anni, piuttosto bambini e adolescenti, e, d'altra parte, la presenza di nuove costruzioni, di nuove abitazioni. Ecco, incrociando questi dati, siamo riusciti a identificare 82 piccole zone, se vogliamo, nuovi quartieri, che hanno conosciuto una fortissima crescita demografica. La nostra sorpresa è che la maggior parte della popolazione nuova non si trovava nei luoghi dove tradizionalmente trovavamo le più forti crescite demografiche, ovvero nelle periferie, nel periurbano e nel suburbano. No, abbiamo trovato queste cose nelle aree centrali, in particolare nelle zone più vicine alle città o addirittura all'interno delle città. E, praticamente, questa popolazione, cioè, che si trovava all'interno delle città o, diciamo, nei comuni urbani più centrali, corrispondeva a più della metà della nuova popolazione che avevamo dal 2011. Ecco, per avere un'idea di questi nuovi quartieri, adesso non ho fatto un'elaborazione cartografica troppo complessa, ma, vedete, questi puntini, praticamente, è quello che il nostro modello ci ha messo in evidenza come luogo dove c'è una forte crescita demografica, una forte costruzione di nuove abitazioni e una forte presenza anche di persone sotto i vent'anni. Ecco, qui, vediamo che, cioè, questo lavoro ci ha permesso di dire, beh, effettivamente c'è stato una stop della perurbanizzazione. Probabilmente, per la prima volta dagli anni Ottanta, noi possiamo dire che c'è più gente che va verso le città che gente che va verso le periferie. e questo è una cosa che era molto interessante, anzi, che corrispondeva, se vogliamo, anche alla politica dello sviluppo centripeto che è stata citata prima da Ferrata. Corrispondeva, appunto, a questa politica di non disperdere gli insediamenti e di non disperdere la popolazione fuori dai centri principali per evitare anche di consumare oltremodo spazio. Ecco, questi nuovi quartieri, questi 30, scusate, questi nuovi, come si può dire, non sono realmente degli insediamenti, sono dei gruppi di case di cui si vedono che spesso sono, corrispondono a dei progetti immobiliari e dopo il progetto immobiliare si vede che la gente entra in questo, ma però, anche le zone attorno a nuovi progetti immobiliari hanno subito un aumento, cioè nel senso che dove ci sono nuovi abitanti in nuove case e spesso anche le vecchie case sono occupate e sono meno, sono meno, tra virgolette, disabitate. Ecco, per essere abbastanza concreti e vado anch'io verso la conclusione, il cambiamento più importante, appunto, riguardava proprio la scelta di insediamento delle famiglie che privilegiavano questa volta la vicinanza al centro. Faccio vedere alcune tipologie, così molto rapidamente c'è questo quaderno che si può scaricare dai nostri siti internet, sia quello dell'Accademia di Architettura, sia quello del Cantonticino, della sezione dello sviluppo territoriale. Ecco, si possono, si può approfondire il tema, naturalmente, adesso sono qualche immagine che vi faccio vedere soprattutto a titolo esemplificativo. Per esempio, qui un quartiere nuovo a Bellinzona, un quartiere nuovo a Locarno e un quartiere nuovo a Lugano. Ecco, adesso li ho scelti apposta, naturalmente. Dopo ci sono anche quartieri, non so, per esempio questo qui a Contone, vedete, questo è uno dei quartieri più piccoli a Contone e uno dei pochi quartieri periurbani che siamo riusciti a identificare. Ecco, ce ne sono alcuni altri, però l'idea era questa. Ecco, tutto ciò corrispondeva anche all'idea che ci si era fatta in Svizzera, cioè nel senso che lo sviluppo del canton Ticino da un punto di vista dell'insediamento non mi sembrava o non ci sembrava molto diverso da quello che avveniva in Svizzera. Proprio a quell'epoca, quando abbiamo pubblicato questo lavoro, il Crezzo svizzero ha pubblicato il suo mercato immobiliare e una delle cose più importanti che metteva in evidenza era proprio il fatto che i giovani una volta che si sono installati nelle città, per esempio per fare degli studi o degli apprendistati, eccetera, poi però non si spostano più nelle periferie dove invece abitano ancora i loro genitori e questo corrispondeva alle città svizzere ma corrisponde anche sicuramente a quello che è successo nel canton Ticino. Ecco, naturalmente con anche tutti i problemi di cui parlavo, dei problemi dell'emigrazione verso le città del nord delle Alpi e il problema della fine della crescita demografica e dunque ecco non dobbiamo dimenticarle queste cose, no? Ecco, per dire quali erano secondo noi i motivi che facevano sì che queste persone o diciamo piuttosto famiglie andavano a localizzarsi vicino alle città piuttosto che in quartieri lontani dai centri il primo motivo fu sicuramente quello del traffico automobilistico cioè l'idea è che il traffico è talmente aumentato negli ultimi anni che è diventata una variabile se vogliamo negativa e che fa sì che se non sono vicino a una stazione o a una fermata importante del trasporto pubblico in qualche modo sono penalizzato e dunque probabilmente l'idea era quella cioè e sarà ed è tuttora non è che questo trend sia finito è andare ad abitare vicino a delle infrastrutture di trasporto e dunque poter usare il trasporto pubblico in maniera più semplice tuttavia non è solo quello è anche il problema anche per esempio dell'inquinamento per esempio nel Mendrisiotto abbiamo scoperto tra virgolette solo due nuovi quartieri su 82 mentre invece la fanno da padrone il belinzonese e in parte anche il luganese e il locarnese ecco probabilmente il Mendrisiotto oggi è penalizzato da un'immagine negativa che corrisponde al traffico ma anche all'inquinamento provocato dal traffico ecco poi altre altre motivazioni erano per esempio il fatto di disporre dei servizi vicino di scuole piuttosto che negozi o luoghi di intrattenimento spazi pubblici nuovi ecco tutte queste queste cose probabilmente hanno si sono aggiunte alla prima motivazione che secondo me resta quella di essere vicino ai trasporti o diciamo e che spiega anche il perché a Bellinzona a Bellinzona c'è c'è questa situazione che non corrisponde da nessun'altra parte in Ticino probabilmente il tunnel del Ceneri ha diciamo da un lato scatenato se vogliamo delle voelleità quasi speculative della classe degli imprenditori che hanno scusate degli impresari immobiliari che hanno realizzato moltissime nuove abitazioni proprio nella città e poi nei comuni immediatamente limitrofi d'altra parte però ecco senza l'idea di questo tunnel del Ceneri nessuno probabilmente si sposterebbe a Bellinzona sapendo che magari io lavoro a Lugano continuerò a lavorare però ci si sposta a Bellinzona perché si sa che comunque da Bellinzona si potrà andare a Lugano in un tempo relativamente breve immaginiamo probabilmente che a Bellinzona a partire dal nuovo orario che sarà attivo dopo metà dicembre probabilmente sarà più vicina al centro di Lugano di Cadro ecco sembra un paradosso però comunque con le comunicazioni che ci sono oggi ecco questo questo c'è e dunque Bellinzona si trova in una situazione molto particolare io ho parlato dell'attrazione fatale del tunnel del Ceneri forse esagerato però l'idea è di dire effettivamente Bellinzona è un caso particolare e solo dieci anni fa se avessimo se avessimo rappresentato questa situazione e avessimo detto guarda che nel 2020 sarà così nessuno ci avrebbe mai creduto perché Bellinzona è sempre stata una città di funzionari piuttosto sonnecchiosa poco dinamica anche da un punto di vista economico e oggi invece sembra che sia la città più dinamica del canton Ticino dunque non solo in termini demografici ma anche in termini di posti di lavoro di nuove imprese che si stabiliscono a Bellinzona ecco io spero di poter discutere di queste cose durante la durante la discussione vi ringrazio di nuove in termini di nuove